Incidente nella serata di domenica 20 novembre, poco dopo le 17, sulla provinciale 4,60 all'altezza di Frazione Mastri, nel territorio di Rivarolo Canavese. Una Fiat Panda uscita di strada abbattendo da primo un cartello della segnalitica stradale e terminando poi la soccorsa nel fosso che posseggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bosco Nero e di Rivarolo Canavese, l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte. Il bilancio è di due feriti che sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Sono registrati i gravi disagi alla circolazione verso Rivarolo, Torino e il centro della frazione. Grazie a tutti!